Amici del Bacchese, siamo qui con Juros Triklović, Juros, grazie per essere qui. Quindi, tu sei aggiornato alla squadra, cosa credo che la squadra spera di te questo anno? Beh, ogni squadra, quando portano un nuovo giocatore, sperano qualcosa di buono. Quindi, ho provato a dare loro tutto bene, non è buono, spero, e ho provato. Cosa ti ha deciso di venire in Italia, in Cremona, a una championship in cui non hai mai giocato? Beh, è difficile per me anche perché non avevo un team fino adesso, e credo che sia una buona opportunità per me di giocare. E come ho detto, con i miei giocatori, ho provato a cercare un team. Per aiutare Cremona in situazioni molto difficili. Grazie a tutti, Juros, e buona chance per la season. Grazie.